La vaccinazione è il punto nodale nella lotta al coronavirus. Secondo quanto riporta la Fondazione Gimbe, su dati del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario, il Molise è al primo posto nella graduatoria nazionale in relazione alla percentuale di popolazione 6,5% che ha ricevuto già la prima dose della vaccinazione anti-Covid. Ma il dato complessivo sulle somministrazioni vede comunque la nostra regione virtuosa perché la scorta di vaccini a disposizione quasi del tutto utilizzata con percentuali vicine al 100%. Intanto a brevissimo nelle prossime ore arrivano 1.400 dosi di AstraZeneca e dentro l'inizio della settimana, dunque fine mese, è prevista la consegna di circa 10.000 dosi di Pfizer per continuare a pieno ritmo la campagna. C'è ancora tanto da fare, ha commentato il Presidente della Regione Donato Toma, ma la speranza e l'obiettivo è uscire in pochi mesi dall'incubo. Si conta, fanno sapere, dal coordinamento della campagna vaccini, di terminare al più presto nei prossimi giorni la vaccinazione agli over 80 e di velocizzare la copertura per i 5.000 a domicilio, così come per le persone fragili per le quali si sta procedendo. In quest'ultimo caso si tratta di 15.000 persone. Entro la prima metà di aprile, si apprende ancora, si dovrebbe aprire la piattaforma per chi ha tra i 70 e i 79 anni e dunque partire con le somministrazioni anche per questa fascia di età. Intanto le Regioni hanno chiesto al Governo un confronto per un percorso omogeneo della vaccinazione.